Benvenuti all'oroscopo di oggi. Oggi esploreremo le stelle e i pianeti per scoprire cosa riservano per voi. Siate pronti a scoprire le previsioni dell'oroscopo per il vostro segno zodiacale e a farvi ispirare dalle influenze celesti. Preparatevi per un viaggio nell'universo dei segni zodiacali e delle stelle, mentre vi sveliamo ciò che il destino ha in serbo per voi. Segno Ariete Caro Ariete, sembra che le stelle stiano attraversando un periodo di instabilità per te. Questo non è il momento ideale per pianificare a lungo termine, ma affronta le situazioni man mano che si presentano. Potresti incontrare qualche ostacolo nell'amore, ma ricorda che la pazienza è una virtù. Sul fronte lavorativo, ci saranno alti e bassi, quindi mantieni flessibilità. Per quanto riguarda le finanze, monitorale con attenzione senza farti ossessionare. La prossima settimana sarà cruciale per te, specialmente se stai lavorando su un nuovo progetto. Tra il 23 e il 30 novembre, le condizioni saranno favorevoli per ottenere soddisfazioni. La posizione favorevole di Mercurio rafforzerà la tua forza e l'energia positiva che possiedi. Tuttavia, potrebbe esserci un po' di oscurità nella sfera sentimentale a causa degli impegni di lavoro che distraggono dalla vita familiare. Presta particolare attenzione alle finanze, all'economia domestica e al patrimonio familiare. Se ti chiederanno di gestire un reddito, fallo senza esitazioni, ma assicurati di stabilire chiaramente le responsabilità e i guadagni fin dall'inizio, sia per te che per gli altri membri della famiglia. Segno Toro Ciao Toro, sembra che le stelle vogliano farti ballare un po' in questo periodo. Nel campo dell'amore, potresti sperimentare qualche turbolenza, niente di grave ma resta vigile. Sul lavoro, mantieni la calma anche se le cose non vanno come desideri, la perseveranza è la chiave. La tua energia potrebbe essere altalenante, cerca di bilanciarla con un buon riposo. La presenza di Giove nel tuo segno sarà di grande aiuto, soprattutto in ambito lavorativo e sentimentale. Se ottobre è stato un periodo critico per alcune persone, ora inizia una fase di ripresa. Le coppie di lunga data dovrebbero cercare di ritrovare un po' di intimità, considerando i numerosi impegni degli ultimi tempi. Non arrenderti, anche se non sarà facile resistere agli eventi che potrebbero disturbare un progetto importante al quale dedichi anima e corpo. L'opposizione della luna nuova potrebbe generare incertezze in una scelta, cerca di non perdere un'opportunità solo per stanchezza ed emotivazione. Segno gemelli. In questo momento, potresti sentirti un po' carente di energie, e potrebbero mancare gli stimoli attorno a te. Nonostante le idee brillanti, potrebbe mancarti il sostegno delle persone nel realizzare i tuoi piani. L'opposizione di Mercurio è un avvertimento, specialmente se hai già speso molto denaro, cerca di frenare le spese. Le coppie di lunga data potrebbero scontrarsi soprattutto su questioni finanziarie. Ehi, gemelli! La tua fortuna potrebbe essere altalenante al momento, quindi evita scommesse rischiose, va bene? Per quanto riguarda l'amore, ci sono segnali contrastanti, ma affronta tutto con filosofia. Sul lavoro, potrebbero esserci giornate difficili, mantieni la tua determinazione. Per quanto riguarda la salute ed l'energia, potresti sentirti come una batteria che ha bisogno di essere ricaricata più spesso del solito. Non dimenticare di tenere sotto controllo le entrate e le uscite, il bilancio è un po' precario. Segno cancro. Giove e Saturno, con la loro protezione, promettono una fase positiva ed entusiastica per la tua ultima parte dell'anno. Tuttavia, questa prossima settimana potrebbe presentare alcune sfide che richiederanno attenzione. Secondo l'oroscopo del giorno, molti del cancro sono sospettosi nei confronti del partner e desiderano scoprire la verità, portando a conflitti e tensioni in casa. Sarà importante essere prudenti in ciò che dici e fai. Ascolta, cancro, sembra che il cielo stia giocando un po' con te ultimamente. Nell'amore, potresti sentirti come su una montagna russa, quindi preparati. Sul lavoro, le cose sono più tranquille, ma non aspettarti eventi straordinari. La fortuna potrebbe essere dietro l'angolo, pronta a sorprenderti quando meno te lo aspetti, ma fai attenzione alle finanze, è meglio monitorare i portafogli. Lascia che la tua energia scorra senza sprechi. Segno leone. La pazienza non sarà mai abbastanza, sarete catapultati in una settimana dove nulla andrà secondo programma, e anche le vostre certezze più assolute potrebbero vacillare. Sguenate gli artigli e mettete in atto il vostro lato più combattivo, poiché dovrete difendere una causa che vi riguarderà personalmente. Soprattutto, non fidatevi di chi, nonostante l'aspetto e il ruolo apparente, potrebbe rivelarsi dannoso, ci sono troppi interessi in gioco. Ehi, leone! Prendi ascolto, sembra che l'universo voglia giocarti qualche scherzo sulla salute, quindi stai attento. Per il resto, non tutto ciò che luccica nelle finanze è oro, ma con la tua creatività, potresti inventarti qualcosa. In amore, diciamo che ci sono giorni migliori in arrivo, e la tua energia fluttuerà come le maree. Ma sapete una cosa? La tua leadership si farà sentire sul lavoro. Segno vergine. Anche questo inizio settimana vi favorisce nel settore affaristico, una trattativa potrebbe sollevarvi dallo stato di insicurezza che la vostra economia vi ha inflitto nell'ultimo periodo. La luna nuova vi offrirà l'opportunità di aprire nuovi canali nei contatti, soprattutto quelli influenti, l'ottimismo cresce. Ascolta, vergine, sembra che la tua adattabilità sia un po' come il tempo ad aprile, altalenante. Lavoro e amore potrebbero essere simili a una corsa sulle montagne russe, quindi aggrappati bene. La fortuna? Meglio non fidarsi troppo. Le finanze sono stabili, niente di eclatante ma neanche crolli bancari all'orizzonte. E per l'energia, speriamo tu abbia una buona scorta di caffè. Sognare una vita perfetta e un amore perfetto può essere un'esperienza meravigliosa, ma nella realtà, non c'è un cavaliere in armatura scintillante che verrà a salvarti. Prendi il controllo della tua vita, della tua vita amorosa e crea la relazione che vuoi vivere, con te stesso e con gli altri. Segno bilancia. Ciao bilancia. Sembra che stai per attraversare un periodo di alti e bassi. Sul fronte delle finanze, potresti voler tenere d'occhio il portafogli, non è il momento per spese folli. Per quanto riguarda l'amore, potrebbero esserci alcuni scossoni, ma niente che non possa essere gestito con la tua solita grazia. E per quanto riguarda il lavoro, preparati perché ci sono opportunità in arrivo, anche se richiederanno tutta la tua energia. Ricorda, equilibrio è la parola chiave. La dea dell'amore brilla, e sarà sinonimo di innamoramenti, Marte segnala un momento intenso, durante un viaggio un incontro sarà predestinato. Una relazione affettiva inizierà la settimana con energia e gioia, non sottovalutare queste sensazioni, sono preziose, vivile fino in fondo. L'universo oggi pone l'accento sul tuo benessere fisico ed emotivo, motivandoti a superare abitudini problematiche e a lavorare su uno stile di vita più consapevole. Una dieta sana e l'esercizio fisico regolare porteranno a una maggiore vitalità per manifestare i tuoi sogni. So che tra i tuoi meravigliosi talenti c'è quello di prenderti cura delle persone che ami, ma tra quelle persone dovresti aggiungere anche te. Devi essere la priorità su tutto e tutti. Segno Scorpione Il Novilunio incornicia lo scenario che già state vivendo, scandendo un tempo, è la finestra che si apre verso nuovi eventi che vi aspettano dal momento in cui le stelle hanno cambiato direzione. Tra il sole che confermerà gli obiettivi da raggiungere o prefissati, illuminare da soprattutto energia, siete in una fase di grande rinnovamento, l'impegno non dovrà mancare, forse anche più accentuato rispetto al passato, ma non andrà disperso, gli astri ineluttabili vi faranno raggiungere ciò che vi prefisserete. Novità e opportunità in arrivo Scorpione, sembra che tu stia attraversando un periodo di alti e bassi in termini energetici ed emotivi. In amore, potresti incontrare qualche difficoltà, ma niente che non possa essere superato con dedizione. Sul lavoro, prestare attenzione ai dettagli può fare la differenza. Le finanze mostrano una tendenza alla stabilizzazione, pocchio alle spese impulsive per mantenere questo trend. Oggi potrebbe essere la giornata perfetta per uscire e incontrare nuove persone, partecipare a eventi insoliti per te. Hai un'aura magnetica che ti rende ancora più seducente di quanto già sia, aiutandoti ad attirare un'anima speciale al tuo fianco. Entra in contatto con la natura è l'unico ambiente in cui entri in contatto con te stesso e ti sembrerà di poter essere libero. Segno Sagittario Questo non è il momento di esagerare, se intravedete un barlume di luce nelle vostre vite, assicuratevi che non svanisca o, peggio ancora, che si interrompa. Il favorevole transito di Venere dovrebbe ispirarvi a non rilassarvi completamente, sfruttate l'occasione per creare un'atmosfera propositiva e cogliere l'attimo. Ehi, Sagittario! Le stelle sembrano mandarti un messaggio un po' misto. Ci saranno momenti in cui la tua energia sarà alle stelle, ma attenzione a non sprecarla. Sul fronte finanziario, potresti dover affrontare qualche ostacolo, fai attenzione al portafoglio. In amore, potresti attraversare acque agitate. La fortuna è altalenante, quindi cogli l'attimo quando ti sorride. Per quanto riguarda il lavoro, diciamo che le cose potrebbero migliorare. Potresti avvertire cambiamenti significativi nella tua routine quotidiana, come provare un caffè diverso al mattino o seguire un percorso alternativo per il lavoro o gli studi. Mescolare le carte può portare a sviluppi positivi, innovazione, nuove opportunità e un nuovo ritmo. Fidati della tua intuizione, opta per ciò che ti fa sentire bene, perché è lì che si trova la vera felicità. Segno Capricorno Ehi Capricorno, sembra ci sia una piccola sfida in arrivo per te. Le cose non vanno come sperato nel campo finanziario, ma non lasciare che ciò ti abatta. In amore, ci sono delle turbulenze, beh è il momento di puntare su una comunicazione chiara. Sul lavoro, potresti sentirti meno energico del solito, ma la tua abilità di leadership rimane intatta, sfruttala a tuo vantaggio. Colleghi, collaboratori e figure femminili in generale potrebbero darti filo da torcere oggi, nel contesto lavorativo, piccole voci potrebbero infastidirti. Sii meno confidenziale e prendi qualche passo indietro, la tua disponibilità potrebbe essere fraintesa e sfruttata da chi mostra un opportunistico spirito galattico. L'universo oggi dissipa la nebbia mentale che a volte ostacola la connessione tra te e la tua intuizione. La tua intuizione è pienamente attiva, riflettendosi nelle tue capacità sociali e nella tua eloquenza. Ascoltati di più, beh è fondamentale accogliere i segnali di allarme provenienti dalla tua intuizione e dal sesto senso, poiché possono essere salvavita. Ricorda che l'universo allontana le persone dalla tua vita non per ferirti, ma perché ha udito conversazioni alle quali tu non hai prestato attenzione. Segno Acquario. Ascolta, Acquario, sembra che le stelle stiano attraversando alti e bassi nella tua vita. Questo non è il momento di sperperare nelle finanze, mantieni un'attenzione costante. Per quanto riguarda l'amore, potrebbe esserci qualche turbolenza, ma nulla che tu non possa gestire. La tua energia è come una rete wifi durante la pioggia, quindi assicurati di prenderti il tempo necessario per ricaricarti. Sul fronte lavorativo, affronta le sfide con un sorriso sulle labbra. Se hai intenzione di approfondire i tuoi studi, le ricerche o le specializzazioni, questo è il momento giusto. Chi si trova in questi settori è favorito, e Venere, che rappresenta anche l'arte, supporterà coloro che dovranno sfruttare un talento personale o che otterranno un successo inaspettato. Spesso è difficile capirti perché hai una personalità completamente fuori dagli schemi, ma non devi rimproverarti per questo. Non sei qui per seguire le tendenze, ma per lasciare un impatto duraturo. Combina il tuo spirito innovativo con una mentalità pratica e presto vedrai i frutti dei tuoi sforzi. Sarà incredibile, credimi. Fidati delle tue capacità, hai molto da dimostrare. Segno pesci. Oggi hai il potenziale per aumentare la tua forza e attirare le persone giuste nella tua vita. Non è lo stesso lottare da soli che farlo con persone che credono in te, nelle tue capacità e sognano in grande insieme a te. La vitalità e la creatività con un gruppo di persone creative gioiose possono portare solo al successo, ed è quello che ti auguro di cuore. Caro pesci, sembra che tu stia vivendo uno di quei momenti in cui devi tirare fuori il meglio di te stesso. Non tutto sta andando per il verso giusto, specialmente in ambito finanziario e lavorativo, quindi preparati ad affrontare qualche intoppo. Tuttavia, non dimenticare che hai risorse nascoste, quindi utilizza la tua energia saggiamente. Per quanto riguarda l'amore, potrebbero esserci delle sorprese, buone o cattive a seconda di come giocherai le tue carte. L'instabilità economica si fa sentire ora, le conferme e i soldi tardano ad arrivare, e le tue risorse finanziarie sono in declino. Non perdere la speranza, poiché Marte potrebbe peggiorare la situazione attuale, soprattutto dal punto di vista psicologico. Sarà necessario attendere pazientemente. Un cambiamento nell'auspicio astrale fra qualche giorno porterà sollievo, con lo sblocco di un credito.